Ehi, cosa stai facendo? Sto buttando la spezzatura Ma questo è il bidone del secco? Tu hai della plastica lì, vero? Sì, allora che differenza c'è? Ma come che differenza c'è? E allora secondo te perché esiste la raccolta differenziata? Boh, cosa ne so, dai, non fammi perdere il tempo Ehi, ehi, aspetta Immagina che tu fossi un pezzo di plastica in quel sacchetto E che nel bidone ci fossero tutti i tuoi amici pronti per un nuovo bellissimo viaggio Ti piacerebbe essere buttata nel bidone del secco Dove è pieno di depravati che fra l'altro ti stanno anche sulle palle E dove verresti abbandonati in qualche parte del mondo A decomporti per migliaia di anni Mentre i tuoi amici invece sono lì a divertirsi in una nuova bellissima vita Ti piacerebbe? Ehm, no Bene, allora e buttalo nel bidone della plastica Bye, bye